Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua per parlare della flop 10 2018, anzi a dire la verità la flop 8 perchè saranno 8, quindi non saranno 10 perchè è stato un anno veramente pieno di bei giochi, bei titoli e belle soddisfazioni e poche cose negative, il che è buono, meglio così, quindi partiamo subito. Primo posto, FIFA 19, parliamo subito di FIFA 19, è già il secondo anno che la mia flop finisce al primo posto, l'anno scorso ovviamente non l'ho fatta su youtube, l'ho fatta su un sito, è il primo posto di questa classifica perchè veramente come ogni anno si conferma il solito gioco che non migliora mai, anzi peggiora, cioè veramente è imbarazzante la questione. Quest'anno in particolare con la modalità carriera hanno peggiorato moltissime cose, tra l'altro ci ho fatto un video pochi giorni fa, due giorni fa, no ieri era, ci ho fatto un video ieri sul cambiare la carriera, sul farsi sentire da Electronic Arts perchè veramente andare avanti così è impossibile, quindi per il secondo anno consecutivo si becca il primo posto perchè non si può andare avanti così ragazzi, non si può far pagare un gioco 70€ e dare così pochi contenuti innovativi. Secondo posto di questa mia classifica personalissima che ricordo sono i giochi che ho giocato quest'anno ma non che sono per forza usciti in questo anno, secondo posto Far Cry 5, cosa dire di Far Cry 5? Far Cry 5 è un gioco in cui mi aspettavo tantissimo, parliamoci chiaro, non è un grandissimo gioco, non è il capolavoro che tutti si aspettavano, non è neanche un gioco così brutto, ma è mediocre, semplicemente mediocre, quindi aspettavo tantissima roba dai trailer, dall'ambientazione, dal... da cosa si parlava ecco, da fanatissimo religioso, questo era il contesto che teneva su il gioco, ma no, non ci siamo davvero, missioni secondari imbarazzanti, trama a dir poco imbarazzante che va a scadere nel ridicolo verso il finale, quindi ragazzi no, non prendetelo, io ci ho preso da Collettro 16, non ha 120 euro, e sto ancora piangendo per i miei soldi, terzo posto, Gears of War 4, Gears of War 4 veramente mi ha lasciato la mare in bocca, perché dopo un'etilogia al limite della perfezione, vedersi un capitolo 4 così scadente, così poco stimolante, con una storia abbastanza banale, non mi ha lasciato veramente buone sensazioni, anche perché ricordo che lo studio di sviluppo è cambiato, prima era l'Epic Games, ora è la The Coalition, che fa il gioco, quindi veramente si vede la differenza, si vede il talento che manca, perché ovviamente Gears of War 4 non è un gioco indecente, è un gioco discreto, la 7, se metto 7, però rispetto agli altri Gears of War è stata una grandissima delusione per me. Allora, quarto posto, parliamo ancora di Gears of War, ma stavolta Judgment, perché l'ho giocato anche questo qui quest'anno, anzi tutti i Gears of War li ho giocati quest'anno, perché li ho recuperati grazie a un amico che ci ha fatto la cooperativa, Judgment non è un brutto gioco, ma mi ha deluso, perché veramente, sempre rispetto ai primi 3, è molto molto più brutto, anche se però ho apprezzato molto le skill, i punteggi e queste cose qua, molto bella sta caratteristica che in base alle kill che fai, hai un punteggio a fine livello, che si blocca delle stelline, una cosa tipo Ballestorm, infatti i sviluppatori sono gli stessi. Allora, quarto posto ne ho parlato, parliamo del quinto posto, in cui metto la saga di Halo, perché metto la saga di Halo? Perché mi ha deluso, mi aspettavo un grandissimo gioco, dei grandissimi giochi, ma li ho giocati tutti quanti e non mi hanno lasciato questo gran ricordo, tutti mi dicevano, compra di Sbox per Halo e queste cose qua, ma Halo non mi ha preso, non mi è piaciuto, forse il problema sono io, non lo so, ma a me Halo non mi è sceso, perché comunque vedere tutti questi livelli rimpinzati di nemici, solamente perché la IA nemica è abbastanza imbarazzante in alcuni punti, lo hanno messi tanti per far sì che diventi più difficile, non ha senso che ti devi ammazzare 500 nemici a livello, cioè veramente, l'hanno proprio rimpinzati dentro al livello nemici, come se fosse tipo una mandria assatanata contro di te, però le storie sono abbastanza sul banale, il primo, il secondo e il terzo soprattutto, il quarto si è un po' risollevato perché, come storie intendo, non che sia più bella del tre, il tre è più bella della storia, però è narrata in maniera peggiore, nel quattro la storia è più brutta, però è narrata in modo migliore, quindi risulta più piacevole l'ascolto e l'andare avanti degli eventi, ma basta, parliamo di Destiny, Destiny lo metto in certa posizione perché mi ci sono divertito per le prime 20 ore, però dopo è diventato veramente un farming estremo, un andare avanti senza un nesso, senza una motivazione valida, perché in Destiny, diciamo che la storia è raccontata molto sulle carte Grimorio, e io nel leggere il suo sito delle carte Grimorio non ne ho voglia, non ne ho palesemente voglia, chi è che si mette lì tutto un giorno a leggere queste carte Grimorio che sono tantissime tra l'altro, manco fossero poche, se fossero poche ci sarei anche andato, ma sono veramente tantissime carte, e lì spiegano un pochino meglio la storia, perché nel gioco principale della storia si capisce veramente, sì, a tratti, in maniera molto astratta, è il classico gioco della Bungie, che ha fatto i primi tre Halo e ha fatto anche Halo Reach, ha fatto Destiny e Destiny 2 ovviamente, Bungie che, vi confesso, io trovo una casa sopravvalutata, vi confesso, poi magari sono opinioni personali ragazzi. Settimo posto, Rogue Warrior, gioco che ci ha fatto anche la recensione sul canale, gioco della Bethesda, uscito molti anni fa, che ho recuperato quest'anno, ed è davvero un gioco scadente, non spera tutto molto molto brutto, che dura due ore, e devo dire la verità, da Bethesda non mi aspettavo questo scempio, ecco perché l'ho messo in flop 10, in flop 8. Ultimo posto, ottavo posto, Monster Jam Crush It, gioco per PS4, classico Monster Jam, sembra quasi una remastre di Battlegrounds su PS3, non so se ve lo ricordate, quindi è insufficiente, è un gioco da 5, non ci gira attorno più di tanto perché veramente è stato... Sì, è godibile, è godibile, cioè alla fine se ci giochi un po' ti diverti a piccole dosi, ci giochi un po' una mezz'oretta ogni tanto, ti diverti anche, ma veramente un po' diventa noioso, ripetitivo ed estenuante, quindi ragazzi veramente... Monster Jam, se vuol tornare alla ribalta nei giochi su PS4, PS5, così, deve fare un gioco veramente bello, fatto bene, perché ne hanno fatti tanti i giochi, ma sono tutti veramente mediocre, non ce n'è uno veramente di spicco in questo short divisivo, ecco. E niente ragazzi, direi che si conclude qua la flop, io vi ringrazio, e niente, ci vediamo ad un prossimo video, ciao ragazzi!